Si abbassa da 80-60 km orari il limite di velocità sul raccordo Arezzo-Battifolle per quasi tutta l'estate, una misura decisa da ANAS in vista dei prossimi lavori di rifacimento del manto stradale. In zona è anche presente una postazione fissa autovelox. L'ordinanza del gestore dell'arteria che collega la città di Arezzo con il casella 1 è dunque maturata a seguito della prospettiva di dover eseguire dei lavori come si legge nel documento di ANAS, in attesa degli interventi di messa in sicurezza del piano viabile mediante il risanamento della pavimentazione ammalorata della strada statale 679 Arezzo-Battifolle, tra il km 4 e il km 7300, in entrambe le direzioni si rende necessario istituire una limitazione di velocità in entrambe le corsie. Il tratto interessato dunque è lungo poco più di 3 km ed è quello che va da Chiani a Battifolle. Il divieto di superare i 60 km orari è stato così istituito in entrambe le direzioni sino al prossimo 31 agosto ed interesserà tutti gli autoveicoli.